I compagni di Massimo Corsaro, vicepresidente del gruppo PDL alla Camera dei Deputati. Allora, intanto l'abbiamo ascoltata in un linguaggio molto vicino ai giovani, questo ci ha fatto molto piacere, questo stimola chiaramente la comunicazione. Allora, parlavamo di rivoluzione del merito. Quali sono i criteri di valutazione? Io ho detto ai ragazzi che secondo me per avere la possibilità di riconoscere il merito è necessario che ci sia una platea e credo che la platea giusta sia quella che può offrire un partito. Io non credo ai sistemi di modernizzazione della politica che prescindano dai partiti. Ci vuole un'assise nella quale chi ha una comune sensibilità possa trovarsi, confrontarsi e proprio nel confronto far emergere delle qualità che altrimenti si disperdono, anche con i nuovi strumenti di comunicazione che consentono contatti con migliaia di ragazzi, con migliaia di persone, mentre magari ai vecchi tempi in una sezione parlavi con 20 o 30 persone. Non hai la possibilità di un confronto, non hai una possibilità di interlocuzione, non hai la possibilità di trovare il sistema e il meccanismo che faccia prevalere il più bravo. Quindi c'è bisogno di ridare una dignità alla struttura dei partiti e la possibilità che i partiti possano tornare a far vivere con assemblee, con punti di aggregazione, con incontri la produzione di idee. Quindi il partito come centro di aggregazione per scoprire questi talenti è il centro a questo punto di convivialità. Non c'è dubbio, io credo che il partito sia lo strumento nel quale idee diverse possono costruire un pensiero organico di modello di sviluppo di società che poi deve uniformare l'attività di tutti quelli che si riconoscono in quella sensibilità nelle loro azioni e nelle loro rappresentazioni nelle istituzioni. Non si va nelle istituzioni per scaldare una poltrona, ma per cercare di tradurre in fatti concreti ciò in cui si crede. Cogliarello nel 1993 parlava di una politica senza partiti, vabbè erano altri tempi comunque. Credo che sarebbe l'anticamera di un'anarchia in cui populismo e possibilità di trovare delle scorciatoie magari semplicemente perché dotati di risorse finanziarie maggiori rispetto ad altri produrrebbero un disastro generale. Primaria sì o primaria no? Primaria per la scelta dei candidati sindaci, candidati presidenti di regione, di provincia, per eventualmente anche il presidente del consiglio, certamente non primaria, su quelle che sono le gestioni interne degli organi di un movimento politico che è una famiglia all'interno della quale decide chi fa parte di quella famiglia.